Stiamo cercando una fonte nuragica bellissima. Questa è davvero una bellissima fonte nuragica. Non sappiamo realmente cosa avveniva in questi luoghi. Si parla di culto delle acque, rito della fertilità, cose di questo tipo, però non conosciamo realmente queste cose. Il bello di questa fonte è la qualità della costruzione. Molto bello anche questo muro che sembra in realtà un blocco a sé, questo piccolo muretto, ma in realtà se si mette la mano si scopre che è una pietra unica in cui è stato predisposto questo bordo extra. Una progettazione veramente interessante. Poi ci sono le tre canalette qui da cui esce l'acqua e goccia là fuori lì c'è il buco da cui esce l'acqua. Immaginate fare una cosa di questo tipo tre mila e passa anni fa. Arrivare qui non è difficile, si può parcheggiare la macchina qualche centinaio di metri più avanti e poi si può camminare a piedi verso la fonte. Bisogna fare un giro da queste parti, è bellissimo, qui è una natura bellissima, c'è questo ruscello, tutti questi alberi ammassati, sembra quasi una giungla. Fantastico! Questa è una zona ricca di tesori un po' anomali come appunto le tombe di Loi che sono comunque costruite con una tecnica perfetta, più o meno come questa. È molto bella quest'area, venite a fare un giro alla fonte di Punta Narcu. Grazie!